Distretto che vai, cinesi che trovi, a Sant'Eramo Altamura Matera e in quello del mobile imbottito, a Martina Franca come a Prato nel Tessile. E col tempo i cinesi si sono fatti anche più furbi, ora le loro aziende, perché ormai di questo si tratta, sono formalmente in regola dal punto di vista della gestione della mano d'opera, contratto, assunzione e busta paga, salvo poi a sparire nel nulla cambiando domicilio fiscale, quando il fisco rileva l'evasione di tasse e contributi in genere ogni 2-3 anni. La conferma è indiretta da un'operazione dei carabinieri di Martina Franca, un controllo generico sugli opifici tessili e ne spuntano due di cinesi nei posti più impensati, uno in una villa del centro abitato in Contrada Pergolo, l'altro in una masseria sulla strada per Cisternino, due imprese tessili, ognuno con una dozzina di dipendenti assunti e pagati almeno sulla carta. Nessuna contestazione possibile da questo punto di vista, salvo poi a scoprire che gli operai dormivano in un sottoscala fatiscente, senza energie elettriche e senza riscaldamento e che per salire nell'opificio dovevano percorrere una pericolosa scala esterna senza ringhiera di protezione. Non solo gli operai che vivono in fabbrica mangiavano cibi scaduti, tutti importati dalla Cina. Ne sono stati sequestrati 300 chili tra riso, pesce, carne e verdura. Queste le uniche contestazioni, 10.000 euro di ammenda e due denunce a piede libero. La concorrenza sleale con le carte in regola continua nel salotto come nel tessile.